eccoci qua ci sono delle novità nel laboratorio elettronico di riparazione assistenza metal detector e apparecchiature elettroniche c'è delle novità strumentazioni nuove un po aggiornato qui c'è un alimentatore switching che dà più tensione più range di tensione e più ampere di potenza un nuovo generatore di funzioni di frequenze che arriva fino a 70 megahertz un nuovo oscilloscopio tablet vedete adesso regolo la frequenza e automaticamente viene rilevata giornata nello oscilloscopio cambio forma d'onda sinusoidale quadrata triangolare cioè impulso sweep e semi onda un spettacolo poi c'è un test analogico della philips che ho messo nel museo lice 680r e un nuovo stazione di lavoro di saldatore smd più portatile naturalmente c'è ancora l'oscilloscopio classico digitale l'analizzatore di spettro con microscopio digitale futensileria tutto il set di antenne per fare le prove anche ad alta frequenza un po aggiornato c'è sempre il multimoto della simpson made in usa americano il nuovo tester automatico l'ic tester per controllare i circuiti integrati analogici digitali qui ci sono altri strumenti tester digitali per scr triac di o di condensatori un po di tutto bene e adesso qui guarderemo nel prossimo film qualche prova qualche prova con questo bel metal detector a impulsi che mi è tornato che aveva dice che non si caricava non si accendeva non si caricava dopo facciamo qualche prova